Il medico, l'agronomo, l'avvocato, il giornalista, l'ingegnere. Sono le cinque categorie professionali su cui è incentrato il ciclo di incontri Lavorare con la Rete, organizzato a Imola dal Centro Studi per la Storia del Lavoro e delle Comunità Territoriali. Momenti di approfondimento rivolti non solo a chi svolge queste professioni ma tutti i cittadini interessati che si svolgeranno nella Sala Grande di Palazzo Sersanti sotto forma di dialogo tra operatori ed esperti di diversi settori per approfondire il tema dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche. Il ciclo di incontri sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in cui il presidente del Centro Studi, Angelo Varni, ha dato alcune anticipazioni sugli appuntamenti che si svolgeranno a partire da aprile. Si comincerà giovedì 4 alle ore 17.30 con l'incontro dedicato alla professione del medico. A partecipare come esperti saranno il chirurgo Gilberto Poggioli e il radiologo Maurizio Zompatori, professori ordinari all'Università di Bologna. Si proseguirà l'11 aprile con gli sviluppi dell'agronomia, appuntamento cui prenderà parte anche il presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, Giorgio Cantelli Forti. Altri personaggi che interverranno negli incontri successivi, le cui date devono ancora essere fissate, saranno Gisella Finocchiaro, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e consulente ONU in ambito legale. E per la sessione dedicata all'ingegnere, il rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini e Sonia Bonfiglioli, neo vicepresidente Confindustria Emilia.